Scacco dei carabinieri del comando provinciale di Chieti ad una organizzazione trasnazionale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti lungo la fascia adriatica fra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo ma anche la Lombardia. L'operazione denominata Lento e coordinata dalla Dia dell'Aquila ha portato all'esecuzione nelle ultime ore di 12 misure cautelari in carcere e due obblighi di dimora nei confronti di cittadini italiani albanesi. Impiegati oltre un centinaio di militari dell'arma. Le indagini iniziate nel settembre del 2019 partirono dopo l'individuazione a Francavilla al mare di un giovane poi fermato con un chilo e mezzo di droga. La particolarità riguarda poi il canale di approvvigionamento dello stupefacente che arrivava in Italia non dai consueti canali ma dall'Olanda e dal Belgio. Droga poi smerciata anche e soprattutto nella nostra regione. In totale nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 60 chilogrammi fra eroina e cocaina destinati al mercato locale. È stata certificata l'esistenza a seguito di una complessa attività di indagini iniziata all'incirca due anni fa. Un'organizzazione che appunto aveva come obiettivo quello di importare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e eroina per poi metterli nel mercato in particolare il mercato abruzzese e marchigiano. Si è riusciti ad osservare insomma questo tipo di attività diciamo sulle rive dell'Alento da dove poi è partita e quindi abbiamo dato il nome all'indagine. Persone che, movimenti strani che si incontravano e in particolar modo andavano su questa diciamo sul torrente dopodiché lasciavano delle buste e delle confezioni che è quindi quando poi le stesse persone salivano in macchina non avevano più queste diciamo questi contenitori. Andando a verificare abbiamo notato e quindi accertato che questi contenitori erano pieni di sostanze stupefacenti. L'operazione è conclusa o potrebbero esserci ulteriori novità nei prossimi giorni? Non è conclusa, stiamo facendo ulteriori accertamenti e ulteriori attività investigative che insomma ci porteranno ancora a verificare e quindi accertare diciamo a sequestrare altre sostanze probabilmente.